alcuni di voi mi hanno chiesto di parlare di quali siano le caratteristiche di una persona sana in effetti normalmente si va a puntare il dito a focalizzare l'attenzione su quelle che sono le devianze le patologie le problematiche e allora ecco ho voluto un po raccogliere questa sfida che alcuni di voi mi hanno posto nel cercare di andare a definire quelle che sono le caratteristiche di una persona che può definirsi in qualche modo sana raccolta la sfida nel senso che ho iniziato a così a meditare un po su questo tema cercando di raccogliere dentro di me quelle che potevano essere delle riflessioni da condividere qui in questo spazio ma allora ecco una prima riflessione che mi è nata è partita da un ricordo di quello che diceva franco basaglia che che è stato uno psichiatra italiano molto famoso insomma che ha chiuso i manicomi ecco famoso un po per questo la legge basaglia che diceva visto da vicino nessuno è normale ecco questa frase se ci pensi racchiude un pochino tante verità parlando di questo tema no delle caratteristiche di una persona sana nel senso che se pensi anche banalmente al concetto di normale di normalità la normale è una curva gaussiana viene studiata in statistica dove in pratica tu hai la maggioranza delle persone che sono nella parte centrale di questa di questa campana e poi le derive da un lato dall'altro di quelle che sono le variazioni dalla norma e allora lì uno potrebbe dire le persone sane sono quelle che in qualche modo sono nella nella zona centrale ecco questo potrebbe essere una riflessione in realtà ecco mi piace molto più questo appunto di franco basaglia che diceva visto da vicino nessuno è normale come a dire che ciascuno di noi ha delle sue peculiarità che lo rendono un essere unico un essere irripetibile un essere strano un essere anormale che però ecco racchiude in sé appunto una grande bellezza e allora ecco la prima questione importante è questa cioè quella di veramente capire che non c'è un modello della persona giusta della persona che va bene perché ciascuno di noi è diverso e spesso questa diversità può avere dei punti di forza di debolezza in relazione anche contesti ai periodi storici pensa per esempio nascere omosessuali non so cento anni fa questo avrebbe avuto un impatto su quella vita di quella persona diverso da quello che ha oggi oppure nascere estremamente intelligente in un ambiente culturale estremamente povero dove magari appunto quell'intelligenza viene addirittura vista come qualcosa di pericoloso qualcosa di fastidioso insomma gli esempi potrebbero essere tanti la questione però fondamentale appunto è che l'essere a posto l'andare bene è veramente un concetto ostico da affrontare perché dipende veramente da da tanti fattori fattori personali fattori di contesto per cui in generale ecco volendo proprio andare a definire quali possono essere le caratteristiche di una persona sana vale la pena davvero ecco come dire fare un passo indietro no quello di dire allora intanto ciascuno di noi diversi intanto questa diversità può essere un valore aggiunto o meno a seconda del contesto però è un valore in sé che andrebbe prima di tutto colto compreso capito e sviluppato e poi ecco però volendo dare comunque la risposta quelle che sono state un po le richieste che mi avete fatto posso dirti questo che secondo me vedi ciò che distingue una persona che fra virgolette può star bene che sta bene penso per esempio alle persone che ho conosciuto nella mia pratica professionale sai che faccio lo psicoterapeuta lo faccio da tantissimi da tanti anni insomma conosciuto tante persone ho seguito anche avuto l'onore alla bellezza la fortuna di seguire tante persone bellissime e devo dirti che se penso a queste persone penso che quello che è stato il come dire il l'acquisizione che sono riuscite a raggiungere grazie anche per esempio ad un percorso di terapia è stato soprattutto quello di divenire persone maggiormente consapevoli persone maggiormente consapevoli di se stesse e quindi della propria storia di ciò che hanno vissuto di quelle che sono le esperienze che le hanno portate ad essere ciò che erano e del mondo intorno a sé però ecco la parola chiave la consapevolezza proprio intesa come capacità di comprendere e di vedere in una prospettiva molto più ampia la propria vita è quella delle persone intorno a intorno a sé vedi quando noi siamo vittime degli automatismi della mente e del corpo insomma automatismi acquisiti in anni ormai completamente dimenticati ciò che accade che spesso andiamo un po alla cieca andandoci poi a scontrare con tante situazioni della vita e questo genera sofferenza e questa sofferenza appunto ci porta a stare male ad ammalarci a volte che addirittura perché banalmente il nostro sistema ormonale va si squilibra per cui anche il sistema immunitario per cui anche i nostri pensieri si offuscono ecco accade un po questo la questione però fondamentale la chiave di uscita è la consapevolezza cioè quando io inizio a diventare consapevole di questi modelli di questo modo di funzionare che mi porta a stare male e quindi inizia ad accedere ad una dimensione più profonda in cui il mio servo divento testimone di me stesso e me ne accorgo inizio a vedere questi modelli per esempio tendo ad arrabbiarmi tendo a nervosirmi tendo a essere teso tendo a vivermi male il lavoro tendo a vivermi ma di modelli ne assimiliamo tantissimi fin da bambini però ecco più io inizio percorrere questo percorso di consapevolezza in cui inizia a vedere questi modelli a riconoscerli a farci attenzione e più in me si genera la naturale possibilità di trasformare questi stessi modelli ecco che allora dovendo dare una risposta questa domanda quali sono le caratteristiche di una persona sana a me verrebbe da dire proprio in prima battuta che la prima caratteristica fondamentale forse non per essere una persona sana non potrebbe avere la fortuna capisce di nascere in un contesto perfetto dove non esiste però può capitare dove che ne ho avuto dei genitori attenti scrupolose bravi che mi hanno insegnato però anche a diventare autonoma eccetera per cui ho imparato a fare sport attenzione tutta una serie di cose benissimo e quindi io sto bene ma solo del tutto inconsapevole cioè così cosa sono automatismi in qualche modo io assimilato la mia famiglia di origine imparato vado avanti così sono sano si prende voglia una persona sana però vedi se io dovesse appunto dirti quella la caratteristica più importante non solamente per essere sani ma anche per poter mantenere il proprio star bene secondo me la più importante in assoluta la consapevolezza perché vedi per esempio quella personali appunto che ha avuto la fortuna sfacciata però magari potrebbe poi trovarsi a vivere nella vita situazioni impreviste catastrofi oppure probabilmente licenziamenti oppure probabilmente separazioni sprovvisto di strumenti per poterle gestire e allora magari potrebbe cadere in depressione nera potrebbe addirittura pensare al suicidio potrebbe stare malissimo viceversa sai una persona che magari non ha avuto questa grande fortuna iniziale ma che però ecco grazie ad un percorso interiore di psicoterapia magari orientata in un certo modo oppure anche di introspezione interiore di lavoro su di sé però vero lavoro su di sé quindi veramente impegnandosi davvero percorrendo anche dei percorsi strutturati ecco che quella persona magari riesce a sviluppare quella consapevolezza di se stessa di ciò che vive di ciò che ha vissuto di ciò che davvero la giorno per giorno ha costruito nelle certe forme che di fatto diventa davvero una protezione anche enorme di fronte a eventuali possibili criticità dalla vita già una persona che ha affrontato le difficoltà le ha superate divenendo consapevole dei processi interni che ha dovuto sviluppare per farvi fronte è una persona più resiliente più forte più strutturata è una persona più in grado di attingere alle proprie energie è una persona più in grado di rimodulare i contesti di rimodulare il proprio approccio alla vita i propri pensieri è una persona più completa allora ecco forse un'altra caratteristica della persona sana oltre a quella della consapevolezza è l'integrazione che prova di pari passo con la consapevolezza che sarà consapevolezza come un cerco che si espande di coscienza campo di coscienza e allora ecco che più si espande questo mio campo di coscienza più io vado ad integrare le parti per esempio quelle quelle parti di me che non vedo facilmente che che magari emergono in certi momenti della vita quelle contraddizioni quelle quelle paure quelle insicurezze allora ecco più io espando la mia coscienza più riesco a vedere queste parti e più riesco ad integrare i pezzi c'era questa ho detto no peace not pieces cioè per raggiungere la pace interiore io devo raggiungere appunto l'integrazione devo riuscire a mettere insieme i pezzi allora ecco che più io riesco a mettere insieme i pezzi di me stesso della vita pezzi a volte dimenticati cocci sepolti proprio riesco a scavare trovarli mettere insieme riesco a reintegrare le parti di me stesso appunto anche le parti oscure quindi riesco veramente a trovare un'integrità e più io riesco a essere consapevole ad avere una visione completa e ad essere anche poi a resiliente ad essere anche vivo dentro la vita capisci riesco davvero a essere presente a me stesso e allora ecco se penso alle caratteristiche quelle veramente importanti di una persona sana mi vengono in mente questo poi certo ti potrei dire che ci sono anche cose pratiche concrete banalmente persona sana una persona che si prende cura di sé proprio perché appunto è consapevole di ciò di cui ha bisogno per cui la persona che si nutre bene una persona che si prende cura dei propri spazi si prende cura delle proprie relazioni è una persona che ecco questa è un'altra caratteristica sono molto importante una persona che sta bene con se stessa e che sta bene anche con gli altri a queste due ali perché vedi non basta saper star bene con se stessi bisogna star bene anche con gli altri e non basta saper star bene con gli altri bisogna star bene anche con se stessi per cui una persona che riesce a stare bene da sola è una persona che riesce a stare bene con le altre persone ecco quali è una persona che comunque è una strada no è una strada del benessere secondo me e quindi ecco questa una persona magari ecco che si prende cura anche del proprio corpo con lo sport che fa attività quotidiana oppure insomma comunque regolarmente è una persona che proprio per via di questa consapevolezza che provvede il nucleo fondante è una persona che naturalmente ama stare in mezzo alla natura riesce ad entrare bene in contatto con essa non la teme è una persona che ha superato che appunto quelle quelle paure no quelle paure che possono avere i bambini del buio del del oppure appunto della natura degli animali della persona che ha integrato queste parti no ecco quella è una persona che che ha lavorato su di sé è una persona che pensando ecco appunto alle relazioni se ne prende cura come ti dicevo e riesce a prendersi cura di se stessa in esse e quindi riesce ad avere relazioni armoniche positive dove dove non vive un senso di dipendenza di bisogno proprio perché ha trovato in sé quelle fonti no della consapevolezza del del potere mi viene da dire personale per cui ecco queste sono un po le caratteristiche se voglia poi ovviamente ecco anche a livello professionale una persona che come dire che riesce a essere autonoma che riesce a essere indipendente quindi che non è schiava di dinamiche che le causano costante sofferenza comunque è riuscita a trovare un equilibrio in esse che le permette di vivere molto serenamente la propria vita pensa che comunque il lavoro sai occupa buona parte delle nostre vite comunque tante ore al giorno e delle ore migliori del nostro della nostra vita per cui sei una persona che è riuscita a trovare anche un buon equilibrio nella vita professionale è una persona che molto probabilmente riesce anche a trovare dei livelli di benessere importanti un'altra parola chiave ecco volendo approfondire un pochino questo tema quindi abbiamo detto consapevolezza integrazione è adattamento come diceva darwin non è la specie più forte ma quella che sa adattarsi meglio a sopravvivere per cui ecco una persona sana fra virgolette possiamo dire anche che una persona capace di adattarsi dove l'adattamento però non è uno scendere a compromessi veramente no anzi proprio perché vedi scendere troppo compromessi può portare ad una disintegrazione interiore banalmente io ho dei valori agisco diversamente da essi per adattarmi all'ambiente questo non va bene però una persona che riesce ad adattarsi all'ambiente salvaguardando la propria integrità quindi la propria dimensione valoriale le proprie scelte di vita è una persona ecco che di certo ha fatto già un buon lavoro su se stessa è una persona che ha capito un po di cose importanti della vita di se stessa di come funziona il mondo una persona che è riuscita a già trovare degli equilibri portati ecco secondo me queste sono alcune delle caratteristiche diciamo importanti ecco per poter andare in quella direzione di benessere quindi una persona che magari anche sofferto che ha avuto anche difficoltà ma che è riuscita a far fronte ad esse sviluppando la consapevolezza di se stesse del mondo e riuscendo poi ad agire nella propria vita questo è un passaggio importante quindi non basta sapere bisogna che la consapevolezza sai non è sapere le cose non è quella la consapevolezza no la consapevolezza è sapere fare essere è qualcosa di ben più profondo per cui ecco sono consapevole quando davvero agisco quando socrate diceva chi chi conosce il bene lo fa anche cioè chi non lo fa non lo conosce in realtà ecco come diceva socrates per cui ecco una persona consapevole una persona che non solo ha compreso queste dinamiche dentro di sé affrontato magari anche dolore difficoltà ma è riuscita anche poi ad agire nella propria vita andando a trasformarla trovando appunto degli equilibri solidi positivi che le permettono di essere integrati in se stessa e nelle proprie dimensioni valoriali questa è sicuramente una una persona che ha raggiunto un buon livello di serenità e di sanità cos'altro dire ecco ti invito a te magari a dire qualcos'altro ecco fare altre riflessioni condividerle nei commenti poi magari cerco di rispondere di cera se rispondo di sicuramente e chissà magari ecco da nuove riflessioni potranno nascere anche nuovi contributi online come questo che mi auguro ti possono essere di aiuto intanto ti saluto a presto a presto